Mia. Zoe. Zoe, io... Non adesso. Non abbiamo tempo. Hai entrambi gli ingredienti. Dami gli ingredienti. Ciao. 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 Ah, sta arrivando. Bene, ce n'è abbastanza per due. E ho ottenuto il siero, cosa si fa? Qui fuori c'è una barca. Andremo alla palude. Ma senza il siero saremo spacciati. Ehi, uno di questi è mio. Zoi, riporta quel tuo culo a casa. L'occuperò di te più tardi. Prima cerchi di portarti via. Muovi. Ora, complotti contro la mia famiglia. Sembri un tiradischi rotto. Ho fame! Questa è la mia famiglia. Sigh. Sì. 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 Ora ti prendo! 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 Va bene! E io che speravo di fuggire! Ma Zoe! Ora ti prendo! Ora ti prendo! Etan! Grazie! Ti prendo! Ti prendo! Tu prova! Tu prova! Ti prendo! 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 ETHAN, 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 ETHAN! ETHAN, 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 ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN, ETHAN! ETHAN, ETHAN! ETHAN, 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 ETHAN! Maledizione! Maledizione! Che cosa è stato? Maledizione! Sono morti! Sono tutti morti! Che vici? Nella sala macchina! Che diavolo sta in mano? È lei che li ha uccisi! Oh merda! Che cazzo sta succedendo? Ci servono armi! Ne abbiamo su questa nave! Io non lo so! Possiamo ancora fuggire da questa parte! Sì! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Sta vomitando Devo resettarlo Com'è la situazione? Sta vomitando Molto più della sua massa corporea Grandioso Se continua così ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti Ok, dobbiamo trovarla immediatamente La situazione ci sta scappando di mano Sono d'accordo La situazione ci sta scappando di mano 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 Grazie. 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 I nostri bagagli. Grazie. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Eevee. Non sono arrabbiata. Aspetta. Come no. Non voglio più vivere al laboratorio. Voglio una casa. E tu sarai la mia mammina. Va bene, Eevee. Sarò la tua mammina. Ma adesso vieni subito con me, ok? Dove sei Eevee? Eevee. 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 Eevee, aspetta! L'hai trovata? Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Evelyn. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alan, Alan, dove diavolo sei? Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stanno... Lontano... Dimentica di... E... Sì... No... Adesso staremo... Per sempre... No... E... 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 Ora ti... E... 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 E...